E' quello? Andrea! Nicola! Sempre speciali i loro due. Finito. Scendiamo. Mi butto? Una sedia. Io sono sicuro che quelli che l'hanno costruita dopo si sono messi a guardarla da qui, proprio dove sono io. Sono stati bravissimi. E' un miracolo. Io brindo a te, chiesa dei miracoli, e brindo ai nonni dei nostri nonni che mille anni fa la costruirono. Ciao. 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 Ciao.